buon salve e buona vigilia di natale a tutti mi sono appena svegliata penso si noti dagli occhi che sono ancora mezzi socchiusi e sono un po triste perché fuori piove c'è una giornata bruttissima io volevo il sole per lo meno o la neve ancora meglio però vabbè fa niente oggi è la vigilia di natale quindi sono molto contenta sono le nove mi sono appena svegliata e ora apriamo l'ultimo pacchettino del calendario dell'avvento insieme eccolo qui il nostro pacchetto del 24 andiamo subitissimo a scartarlo e ci sono dentro delle maschere o tipo maschere fino al 2050 dopo questo calendario due maschere e un balsamo che bella la vigilia che bella la vigilia che bella la vigilia mia mamma e papà adesso non ci sono perché sono a lavorare a lavorare con tre l a lavorare e adesso io faccio colazione e poi farò la doccia e mi inizierò a sistemare un pochino per iniziare al meglio questa giornata che voglio sia magica buona colazione a tutti da me il mio buonissimo yogurtino con le scaglie di cocco adesso ci aggiungo pure un po di granola comunque dovete sapere che questo è lo yogurt più buono del mondo è lo yogurt della svizzera prodotto proprio qui artigianalmente ed è buonissimo ogni volta che vengo qua ne mangio 10 miliardi perché è troppo buono vale passione yogurt sempre presente assurdo raga mi sono presa malissimo perché stavo guardando un vlog di cleotoms dell'anno scorso del 2019 e è entrato in un negozio senza mascherina io mi sono presa malissimo ho detto ma cosa fa la mascherina nel negozio ci vuole senza rendermi conto che un anno fa questa situazione di m non esisteva ancora in realtà se mi esisteva già ma non ce ne accorgevamo ancora non ci davamo ancora peso ed è bruttissimo perché significa che non so più cos'è la normalità cioè per me la la normalità è questo quello che stiamo vivendo ora e non lo è per niente non vedo l'ora che torni la vera normalità di viaggiare di fare eventi però vabbè non deprimiamoci adesso è la vigilia adesso vado a fare la doccia e poi iniziamo a fare cose produttive anche se volevo il sole cioè che noia io odio la pioggia sono la persona più meteoropatica del mondo se piove sono presa male se c'è il sole sono presa bene però oggi c'è la magia del natale che aiuta comunque ieri ho visto il film qualcuno salvi il natale ed è veramente veramente bellissimo veramente bellissimo perché mette un sacco di atmosfera natalizia spesso i film di natale non sono molto natalizi non danno molta atmosfera mentre questo è veramente un sacco un sacco magico tra l'altro mi ricorda un sacco una cosa che ho visto io da bambina perché io da piccola alla vigilia di natale ho sentito dei campanellini mi sono affacciata alla finestra e ho visto babbo natale con le renne che passava via e non lo so cosa avessi mangiato bevuto cosa avessi assunto fatto sta che ero convinta di aver visto babbo natale e quindi questo film mi ha ricordato un sacco questo episodio di me da bambina che poi ho iniziato a correre per tutta la casa andare da mia mamma e papà mamma ho visto babbo natale e lei tipo questa bimba è normale silvio chiamiamo il centro bimbi strani no in realtà è una cosa molto bella ho sempre avuto un sacco di immaginazione e di fantasia io vado a fare la doccia quindi ci sentiamo tra poco con questa bellissima cuffietta oh yeah no non è vero devo lavare anche i capelli però quando non lavo i capelli la uso sempre io fashionissima comunque mi è venuta la voglia matta di fare una di quelle casette di panno di zenzero che devi assemblare e decorare con tutte le cremine perché l'ho visto in un vlog di cleo però purtroppo io abito veramente tanto tanto lontana dalla città dai negozi e quindi oggi non scenderemo in città e non posso prenderla vabbè sarà per un altro anno raga aggiornamento è mezzogiorno meno 10 io come vedete mi sono preparata tutta quanta non vi ho fatto vedere perché ho dovuto tenere il telefono per più o meno un'ora e mezza fermo sulla ring light perché ho dovuto completare una transizione per un tiktok vabbè vedrete su tiktok comunque mi sono truccata ho messo il rossetto rosso ovviamente perché è natale non è natale senza il rosso il trucco occhi ho fatto semplicissimo uno smokey eye tipo con dei colori un po glitter tipo il bronzo e fuori un po più scuro in realtà ho messo anche il rosso ma non si vede perché vabbè devo ancora imparare bene a usare gli ombretti e mi sono messa questo vestito qui super attillato super corto rosso che però ora mi vado a togliere perché è scomodissimo l'ho usato solo per fare un tiktok e il magnifico cappellino di natale e sì mi sono anche fatta i capelli lisci alla fine buona vigilia mamma sei felice buona vigilia grande almeno un po di brio comunque l'albero si sta riempiendo sempre di più guardate quanti doni e mancano anche quelli di mia sorella di mio fratello quindi direi che poi sarà veramente pieno e bellissimo sono super contenta perché si sta aprendo un po la giornata realtà non molto però c'è un po di luce rispetto a stamattina e niente è ora di pranzo noi mangeremo lenticchie che portano fortuna portano fortuna a capodanno però di solito soldi beh non ci lamentiamo e niente quindi buon pranzo raga comunque mi sono messa queste fantastiche calze di natale però hanno un difetto perché visto che sono nuove sono liscissime e scivolano tantissimo cioè guardate scivolo un sacco e ho rischiato più volte di fare dei voli assurdi sono le 5 e un quarto è già completamente buio io questo pomeriggio ho fatto qualche tiktok però tiktok mi ha fatto il bel regalo di bloccarmi tutti i video ma non l'ha fatto solo a me l'ha fatto anche a valerio e altre persone che ho sentito quindi viva la vita ho fatto tutto quanto per nulla comunque anche oggi è successa la stessa cosa strana di ieri ovvero che mi sono arrivati dei pacchi non so da chi con dentro delle cose strane cioè sono arrivati a mio nome uno da venezia uno dalla russia tipo e uno dalla spagna con dentro ieri i coriandoli oggi degli squishy a forma di unicorno e delle buste blu cioè veramente non sto capendo sono stranita da questa cosa boh chi sei comunque mi sono anche cambiata ho tenuto ovviamente il cappellino perché oggi deve esserci per tutto il giorno e poi mi sono messa questa felpa bellissima di natale bianca con i dettagli rossi che è tipo gigantesca quindi adoro e ovviamente anche le calze e le ciabatte sempre a tema guarda che fashion oh yeah le vorresti anche tu sì comunque sto mettendo a posto con mia mamma le valigie perché ho portato duemila cose e devo sistemarle intanto mia mamma con le corna da renna no ma è rotta è rotta sed era così dentro che vedete tutto il pezzo no comunque micio un divo davanti all'albero così in posa guardalo qui che gatto divo che sei un gatto divo sono le sei si inizia a preparare tutto quanto per la cena io aiuterò mia mamma fare le salsine per la cinoise le tartine insomma adesso vi facciamo vedere i due chef della casa all'opera ovviamente io sono quello superiore valeria cracco e lo sguatto e lo linguini soldati il grande capo mi ha dato una missione quello di fare le tartine e sarà una missione ardua ma ce la posso fare credo nelle mie potenzialità e ho appena fatto le prime con il prosciutto le cipolline i cetriolini e i pomodorini nella postazione tartare come procede senti in ansia per questa prestazione di oggi no no a guarda come se la tira ragazzi c'è canna vacciolo ma in ansia a guarda canna vacciolo sì sì proprio e niente qui ci sono le cetriolini acqua cian non so parlare gelato non ho capito il gioco ma bisogna riprendere questo patrimonio dell'unesco c'è un sacco di cavolate ma non è vero dai e voilà tartine al salmone e tartine al prosciutto completate ovviamente nel frattempo abbiamo acceso una candela questa qui è buonissima tema natale la glittering star e stiamo ascoltando anche la musica natalizia ora non la sentite perché la sto facendo andare dal mio telefono quindi quando registro si stoppa però stiamo cantando e ballando vero santa cerni if you really don't make me fall più che altro io comunque sono stonatissima aiuto i preparativi proseguono io sto imbastendo la tavola guardate qui che bella tovaglia abbinata pure ai tovagliolini questi sono i piatti da con di chinoise ho messo pure delle decorazioni questi due fiori e in mezzo la candela cioè dovrei fare la home designer ammettiamolo ecco qui le salse questa è al tonno questa salsa rosa salsa al curry tartare pochina cioè per rimanere umili pochina qui ci sono le patatine e le tartine fatte ufficialmente da me la giovane ragazza 17enne che si destreggia con maestria in cucina oggi sono più più pimpante del solito è natale è natale raga comunque sono tornati i video dei parenti sull'anno su il natale ogni anno su whatsapp mandano sti video goodbye carino però siete pronti a sentire la voce più suave del globo astro del cielo parco il divino mitte agnello redentor tu che vati da lungi sognar tu che angeli che voci inuziar luce dona alle genti pace in fondi nei cuor grazie scusate la luce scrausa si vede malissimo comunque ho appena sentito le voci dei miei fratelli di sotto quindi ora vado a salutarli starò un po' con loro perché non li vedo da tantissimo penso da agosto quindi veramente da un sacco non vedo l'ora di passare questa serata in loro compagnia magari non riprenderò troppo farò magari qualche clip muta sia perché loro non amano i video e quant'altro sia perché voglio godermi totalmente questa serata con la mia famiglia perché non capita spesso di riunirci tutti insieme quindi buona vigilia a me e a tutti voi c'è in realtà quando vedete questo video sarà già passata però buona vigilia sono appena andati via tutti quanti sono più o meno le undici e mezza io mi sono sporcata tutto il maglione di salsa al curry non so se si veda si si vede è tutto giallo perché mi sono sbrodolata come sempre io non riesco a mangiare o fare qualcosa in modo normale devo sempre paciugare tutto abbiamo aperto anche tutti quanti i doni lì per terra ci sono tutti quanti i miei però non ve li mostro ancora oggi domani nel vale mas vi mostrerò tutto con calma anche perché adesso è già tardi quindi andrò di sopra mi struccherò mi preparerò e poi guarderò un bel film di natale con mia mamma per concludere al meglio questa giornata e entrare nel giorno di natale definitivo quindi nel 25 dicembre con più spirito natalizio che mai anche se appunto io festeggio più oggi che domani però vabbè natale sempre natale comunque quest'anno in realtà un po come tutti gli anni però io la più in mood di tutti cioè tutti i miei fratelli che dicevano quest'anno non l'ho sentito tanto il natale io invece così con le ciabatte da elfo il maglione di natale il cappellino super gasata con la musica e vabbè meglio così io amo il natale comunque è stata veramente una bellissima bellissima serata ve la resumo un po' perché non ho filmato praticamente sono arrivati i miei fratelli abbiamo fatto un po' di aperitivo un po' di brindesi al natale poi abbiamo mangiato la fondi chinoise buonissima con il riso le patatine tutte le salse buonissime fatte da mia mamma dopo abbiamo aperto i regali e poi piano piano sono andati tutti ho anche ricevuto un gratta e vinci ho grattato ma non ho vinto niente perché sono la persona più sfortunata nel mondo in queste cose tipo di azzardo quindi non ho mai vinto un gratta e vinci in tutta la mia vita nonostante quando ero piccola me ne regalavano sempre io veramente zero mentre le mie amiche sempre 10 euro 15 euro comunque qualcosa vincevano sempre io la sfigata di turno mai niente comunque con i miei fratelli purtroppo non ho grandi rapporti da un po' di anni a questa parte però mi è piaciuto tantissimo ritrovarci tutti insieme chiacchierare un pochino e anche grazie alla situazione ho imparato ad apprezzare di più le piccole cose e una semplice cena in famiglia mi ha dato tanto sono veramente felicissima e cercherò di fare tesoro di questa cosa e di non dimenticarmi mai l'importanza dei piccoli gesti delle piccole cose degli affetti della famiglia che sono cose importantissime mi sono già preparata con il mio sexissimo pigiamino e adesso io e mia mamma stiamo per guardare un film che è Natale in California ovviamente film natalizio cioè si può guardare alla vigilia un film non natalizio? no quindi ora guarderemo Natale in California e tra l'altro consigliatemi altri film da vedere perché adesso insomma ci sono le vacanze sono qui a casa e qualche film ce lo possiamo guardare poi ho scroccato l'account Netflix a Jodie quindi ho pure Netflix adesso amici miei è Luna il film è super bello ma non l'abbiamo finito lo finiremo domani perché sia io che mia mamma eravamo stanchissime quindi io vi saluto spero che questo vale ma vi sia piaciuto spero che abbiate passato una buona vigilia e un buon Natale vi voglio un mondo di bene se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se no e mannaggia mi dimentico sempre l'unicorno giù perdonatemi vi lancio anche oggi l'orso a casa vi voglio tantissimo 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 bene un bacio e buonanotte sono stanchissima perché ieri sono andata a letto verso le due e mezza e mi sono svegliata alle otto di mattina e sono stata a ballare e cantare tutto il giorno quindi non vedo l'ora di farmi una bella bella dormita